Il lavoro, se non è un lavoro collettivo, collegiale, non salta fuori. Lo spettacolo di Marinetti nasce perché ci sono tutti, non perché c'è una persona. Prendetevi i tempi giusti, i momenti giusti. Credo che sia un discorso di rispetto verso questi oggetti per i quali noi siamo dei mezzi, loro sono il fine.